ciao fragoline nuovo video è un video un po diverso perché volevo fare vedere la reazione del mio cane sulle bolle di sapone che sono queste e dato che il mio cane non gli piacciono le bolle perché scappa mi piace riprendere quando faccio le bolle e vedere la sua reazione in poche parole per cui con le bolle di sapone voglio fare questo video diverso un po diverso dal solito un po particolare e così vi faccio vedere anche il mio cane per quelli che sono appena iscritti al mio canale o non conoscono ancora il mio cane anche se avevo già fatto un video dove presentavo il mio cane comunque detto questo prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi a canale così non vi perdete neanche un solo video in cui escono lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video che è praticamente uno scherzo che faccio il mio cane chiamiamolo così seguirmi su instagram se volete ve lo lascio qui sopra e sotto in tutti i video e un commentino qua sotto se anche voi avete un cane e non so raccontatemi qualcosa se avete animali se avete cani eccetera per cui adesso iniziamo questo video vediamo un po la reazione e che cosa fa con le bolle di sapone all'inizio ho già registrato la sua reazione ma dato che è poca volevo andare avanti e vedere di nuovo cosa fa intanto che no che va in giro per la casa gli metto praticamente le bolle di sapone in giro voglio vedere che cosa fa lì invece prima era nella cuccia però tanto adesso vedete il video per cui detto questo io vi saluto qua ci vediamo al prossimo video e se volete altri video di questo genere fatemelo sapere sotto nei commenti detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie. Strane, non scappi come la ritavolita. E' un diamantolo. E' un diamantolo. E' un diamantolo. Pensavo che escapavi. O che vuce no? Strano. Ovviamente le faccio un po' distante No, ha paura Peccato No, ha paura 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 No, ha paura